Sono diverse le iniziative che il Comune di Giulianova sta mettendo in campo per quest'estate. Tra queste c'è l'installazione di un parco acquatico sul lungomare sud nel tratto di mare davanti al quartiere Annunziata, all'altezza della spiaggia libera accessibile ai disabili e che prevede l'installazione di gonfiabili galleggianti. La collocazione dovrebbe avvenire entro il mese di giugno e darà la possibilità di svolgere attività ricreative in acqua, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Una località turistica come quella di Giulianova merita numerose attività. Stiamo predisponendo un avviso pubblico proprio per installare un parco acquatico marino che è un'attrattiva ludica piacevole sia per i turisti sia per i frequentatori delle nostre spiagge. Nella zona sud c'è una spiaggia libera che è predisposta con dei servizi igienici, con delle passerelle, quindi lo rende fruibile e accessibile a tutti. Abbiamo tanti progetti in pentola e a giorni uscirà l'avviso pubblico per la ruota panoramica, anche quella è un'attrattiva che nel rispetto delle norme comunque permetterà di ammirare da oltre 30 metri di altezza la bellezza delle nostre spiagge, la bellezza del nostro porto e addirittura nelle belle giornate è ancora meglio poter ammirare le cime del Gran Sasso. Tante altre iniziative abbiamo confermato i campionati nazionali assoluti di beach tennis che è uno sport appunto molto praticato lungo il nostro litorale. Così come siamo pressoché certi, se le norme lo considerano, di riproporre il festival delle bande. Stiamo pensando anche ad attività ricreative e anche culturali insieme all'assessore Giorgini. Abbiamo un bel progetto che probabilmente presenteremo quanto prima. L'assessore Giorgini raccogliendo quelle che sono state un po' le istanze del comitato annunziata nel parco appunto dell'annunziata prevede di inserire, installare un parco delle farfalle attraverso delle essenze che richiamano questa specie animale che darà voglio dire colori e comunque un'iniziativa simpatica sia per i residenti ma anche per i turisti.